. Dopo la conferma delle sei cocche VIP in gara, arriva anche la conferma della presenza del figlio di Vasco Rossi. Qualche settimana fa era circolata la voce che il figlio di Vasco Rossi, Davide, potesse essere uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island VIP che partirà a settembre su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. . Ebbene, dopo la pubblicazione dei nomi delle sei coppie del cast, di cui faranno parte personaggi di grande popolarità come Stefano Bettarini, ex di Simona Ventura, e Valeria Marini, sono stati resi noti alcuni dei tentatori del programma prodotto da Maria De Filippi, e tra questi, è stata confermata la presenza di Davide Rossi, figlio del noto rocker Vasco. . Egli, a differenza del padre, è un attore ed ha recitato in pellicole cinematografiche come Il posto dell'anima di Riccardo Milano, a Terima va in città di Paolo Virzi, scusa ma ti chiamo amore di Federico Mocce e al bacara di Stefano Salvato. . Davide, oltre ad amare il cinema, è anche appassionato di musica ed ha scritto una canzone per Valerio Scano. . Davide Rossi a Temptation Island VIP 2018. Davide Rossi, dunque, è ufficialmente nel cast di Temptation Island VIP 2018. . . Il figlio di Vasco Rossi sarà uno dei tentatori ed il suo obiettivo sarà quello di conquistare una fidanzata delle coppie VIP presenti in gara. . Davide Rossi è un attore, ma è stato anche impegnato nel mondo della musica e nel 2014 è tariscritto un brano per Valerio Scano il cui titolo è Parole di Cristallo. . Altro nome reso noto è quello di Melissa Castagnoli, ex del calciatore Mario Balotelli, che è già stata tentatrice nell'edizione 2016 di Temptation Island, oltre ad essere stata un'ex concorrente dello show Velline, in cui vedivano selezionate le veline di striscia la notizia. . 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